Pace a voi. Pace a voi, si avvicina sempre più il gran giorno della nostra redenzione, il mistero del Figlio di Dio che si fa uomo. È una promessa che si compie, una promessa fatta all'umanità, per mezzo del popolo di Israele. Una promessa per ogni carne che passa attraverso la carne della stirpe di Davide. E' questo il messaggio che passa attraverso l'Evangelo della quarta domenica di Avvento. L'angelo che va in sogno a Giuseppe e pone l'evento proprio nella discendenza di Davide. Paolo, nel presentare il Vangelo di cui è apostolo per chiamata, pone questo passaggio del seme di Davide come elemento costitutivo del compimento della promessa e dell'evento della salvezza. In questo inizio della lettera ai Romani, Paolo si presenta e presenta il contenuto del Vangelo e la finalità dell'annunzio. Innanzitutto si presenta come servo di Cristo Gesù. Ormai la sua vita, dopo la conversione, vocazione, è cambiata. C'è una dipendenza radicale ed esistenziale con la persona di Gesù. Non si percepisce senza Gesù, anzi, si considera servo, nulos di Cristo Gesù. E in questa dipendenza radicale ed esistenziale, egli ritrova la sua nuova identità. chiamato ad essere apostolo, chiamato per essere mandato. Ma è importante la parola apostolo perché la testimonianza di Paolo si pone nella apostolicità della Chiesa. La Chiesa è apostolica per il collegio degli apostoli di cui Paolo è colonna. scelto per annunziare il Vangelo di Dio. Con questa espressione Paolo pone l'evento della salvezza nella sua origine. Si può dire il Vangelo di Cristo, il Vangelo della Chiesa, il Vangelo di Dio. Questa espressione è quella che racchiude tutte le altre, perché il progetto è di Dio e Dio lo compie per mezzo del Figlio nella potenza dello Spirito Santo. Dopo aver lanciato questa espressione, il Vangelo di Dio, Paolo dà il contenuto. E il contenuto è preciso, che egli Dio ha promesso. Quindi questo Vangelo che si compie nella storia, che ha un contenuto preciso nella persona di Gesù Cristo, ha avuto una promessa, è stato promesso. Ecco, il tempo dell'Avvento che stiamo vivendo è proprio il tempo in cui valutiamo le promesse del Signore. E le valutiamo inserendole tutte nella sua benevolenza. Ogni promessa nasce dalla benevolenza del Signore. La benevolenza è il piacere che Dio prova di salvarci. E nell'atto salvifico, egli sperimenta il piacere di amarci. Infatti, questa pericope, questo brano, termina proprio con la consapevolezza. Che tutto questo è per amore e noi dobbiamo sentirci amati dal Signore. Ma continua il Vangelo promesso per mezzo dei profeti, nelle Sagra Scritture, ha come punto centrale, come evento unico, la persona del suo figlio. Ma il suo figlio ha compiuto la promessa nascendo dal seme di Davide, secondo la carne. Ecco allora la promessa che si compie. È una promessa fatta all'umanità. È una promessa fatta a Israele. È una promessa fatta a Davide. Dal profeta Natan, quando il profeta gli preannunzia l'eternità della sua casa, per questo figlio che nascerà. La carne che il figlio assume è compimento della promessa ed è garanzia che la salvezza è storica. Che la salvezza riguarda gli uomini della storia, non gli uomini del mito, non gli uomini della fantasia. Riguarda noi, che ci troviamo gettati nel tempo, deposti nel tempo, accompagnati nel tempo. Dipende la nostra condizione. A volte ci fa sentire gettati nel tempo, a volte deposti nel tempo, come sarà deposto il bambino della mangiatoia. Altre volte accompagnati nel tempo, come furono accompagnati i pastori, i magi, a riconoscere il Dio bambino. Ma questa promessa che si compie nella vera umanità, c'ha il suo svelamento quando il figlio, risuscitato dai morti nella potenza dello Spirito Santo, è svelato come figlio. Paolo dice, è costituito come figlio di fronte all'universo intero, di fronte all'umanità. E quasi a chiudere questo contenuto del Vangelo, che si compie nel tempo e che deve essere annunciato nel tempo, Paolo ha questa formula, che ci è troppo familiare, ma che ci deve essere sempre cara. Gesù, il figlio che si fa uomo per salvarci, il Cristo, il Messia che compie le promesse fatte a Israele nell'unzione dello Spirito Santo, il Signore risorto nostro, perché è tutta la Chiesa, siamo noi tutti che crediamo nel Vangelo e annunciamo il Vangelo. Gesù, Cristo, nostro Signore. Paolo è in questo Vangelo. Come ognuno di noi è in questo Vangelo che si compie. Proprio perché siamo in questo Vangelo, per la grazia che riceviamo dal Vangelo, ne possiamo diventare annunciatori. Noi rinasciamo nella grazia del Vangelo, nella grazia che il Vangelo annuncia. Ma di fronte al Vangelo annunziato bisogna obbedire. Paolo è in mandato ad annunziare per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti. Questo evento è universale e ogni uomo può consegnarsi liberamente a questo evento, per partecipare alla gioia di questo evento, per partecipare alla grazia di questo evento, per partecipare all'annunzio di questo evento. Questo evento allora è chiamata alla fede. Il Vangelo annuncia l'evento e ci chiama alla fede. E mentre ci chiama alla fede, ci fa sentire amati da Dio e santi. Amati da Dio. Ricordiamo questa espressione che ci ridona identità e dignità. E colleghiamola, portiamo nel cuore per la notte di Natale, quando sentiremo dire gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Egli ci ama. Sentiamoci amati. E il Vangelo ci dà questo annunzio.